Ciao, benvenuto o benvenuta nel video di oggi. L'argomento che voglio proporti è quello del frequentare le lezioni e soprattutto se è possibile studiare in modo efficace, prendere dei voti alti o in generale riuscire a passare l'esame. Prima di vedere tutto questo io mi presento brevemente. Sono Nicola, sono un dottore in scienze tecniche psicologiche, ad oggi laureando alla magistrale di psicologia e se sei uno studente universitario in questo canale troverai tutte le informazioni, le risorse che ti servono per riuscire a coniugare la tua vita al di fuori del contesto universitario con lo studio universitario efficace che ti può portare a ottenere i risultati che desideri e quindi senza rinunciare a tutto quello che è fondamentale per riuscire ad avere una vita equilibrata e uno stile di vita corretto per portare avanti durante tutto il periodo dello studio universitario. Per cercare di aiutarti, quindi oggi voglio parlarti del frequentare le lezioni e partiamo dalla prima domanda. È possibile superare gli esami senza frequentare le lezioni? La risposta è sì e puoi farlo anche con dei voti alti. Però la domanda più corretta sarebbe conviene farlo? Allora in questo caso la risposta è no. È per una serie di ragioni. Prima di tutto perché ci sono grandissime opportunità che arrivano con il seguire le lezioni, sia per quanto riguarda la tua formazione in senso più ampio, sia per quanto riguarda lo specifico dell'esame. È il rapporto che si crea direttamente con il docente, seppur comunque un rapporto professionale in cui la possibilità di farti vedere a lezione può aiutarti durante l'esame stesso, in modo più o meno diretto. Questo soggiunge inoltre l'idea che c'è alla base del cercare di studiare senza frequentare le lezioni. E questo è un problema di mindset, quindi di approccio, di mentalità. Infatti se tu cerchi di studiare senza frequentare le lezioni, stai cercando, a meno che non ci sono dei problemi più importanti come quello che riguarda associare il lavoro allo studio. E in questo caso ti rimando a un video nel canale in cui tratto nello specifico proprio questo argomento con tutte le soluzioni che puoi applicare fin da subito. Ma tornando all'esempio principale, quindi se tu non frequenti le lezioni per pigrizia o per noia, è come se tu stessi cercando di arrivare al miglior risultato possibile o a un risultato accettabile, quindi a passare l'esame, sforzandoti il meno possibile. Quindi quello che è sbagliato in questa visione è cercare di ottenere il meglio sforzandosi il minimo e quindi investendo il minimo indispensabile, il minimo possibile, risparmiando un po' su qual è l'impegno necessario. Per cercare di farti capire perché è importante riuscire a studiare frequentando le lezioni, scomodorò due concetti che sono molto conosciuti tra gli psicologi. Il primo è il concetto della familiarità. Secondo il concetto della familiarità, riusciamo a preferire qualcosa tanto più questa ci viene presentata o perlomeno tanto più siamo esposti a questo qualcosa. Per farti un esempio e riuscire a farti capire, prova ad immaginare una qualunque pubblicità, un qualunque spot pubblicitario sia in tv o magari alla radio o magari che vedi in un cartellone, in cui uno stesso prodotto è pubblicizzato più, più, più e più volte fin quando nel momento in cui ti trovi a comprare qualche cosa o magari ti trovi a scegliere tra quel prodotto e un prodotto concorrente, se hai visto maggiormente quel prodotto è come se tu avesse acquisito una forma di fiducia per quel prodotto stesso, proprio perché sei stato più volte esposto alla pubblicità che sponsorizzava il prodotto e di conseguenza questo avviene attraverso l'attivazione del principio della familiarità. La stessa identica cosa accade sia a te quando ti trovi a seguire la lezione e soprattutto al docente quando ti vede partecipare alla lezione non una volta ma in modo costante. E cerchiamo di analizzare questi due scenari a uno a uno, partendo dal docente. Infatti è ovvio che tutti i docenti, proprio perché il proprio lavoro, la propria professione e talvolta anche la propria vocazione, riuscire ad insegnare comporta riuscire a stabilire dei rapporti diretti con gli alunni, con i ragazzi e le ragazze. Quindi tutti gli docenti idealmente vorrebbero che gli studenti seguissero le proprie lezioni. È anche una forma di gratificazione e in modo più o meno diretto tendono ad aiutare chi frequenta. È uno dei principi per cui questo aiuto avviene dipende proprio dal principio della familiarità, quindi dallo stabilirsi, quindi di una forma di fiducia addettata da questa esposizione che il docente ha rispetto a quegli alunni che più frequentemente si trovano a lezione. Potremmo dire quasi che si forma un rapporto di confidenza, però questo è un po' forzare qualche termine, quindi preferisco parlarti nello specifico proprio di questo principio di familiarità. Questo è molto importante perché talvolta il docente non lo fa in cattiva fede, ma lo fa magari per riuscire ad aiutare chi si è dimostrato più interessato. E quindi non sfruttare la possibilità di avere non solo un esame più accettabile in termini di sforzo e anche di ansia, ma soprattutto la possibilità di poter stabilire un rapporto con un professionista nell'ambito in cui sta studiando e a partire da questo rapporto magari poter costruire professionalmente quella relazione che ti permette poi di costruire anche la tua figura professionale. Quindi questo è molto importante, a prescindere da come va il singolo esame nello specifico. Per cercare di capire come riuscire a ottimizzare il tuo rapporto con il docente e quindi sfruttare il principio della familiarità a tuo favore, ti invito prima di tutto, oltre a seguire le lezioni ovviamente, anche a partecipare a quegli eventi, seminari o magari laboratori che sono organizzati dal docente. Infatti chi si sbilancia a organizzare queste attività al tempo stesso anche sta investendo qualcosa in più e quindi avere un ritorno da parte degli alunni, oltre ad essere una fonte di gratificazione, comporta anche la possibilità di spiegare meglio qual è il contenuto del corso, il contenuto quindi della materia. L'altra cosa che ti invito a fare è cercare di formulare delle domande e quindi proporre delle domande al docente facendo in modo che questo non sia né troppo scontato e quindi ragiona prima di fare una domanda né farne in modo eccessivo perché ovviamente l'effetto è quello che tu sembrerai un lecca... abbiamo capito. Quindi se questo è il principio della familiarità applicato al docente, quindi qual è l'effetto che può avere sul docente, questo ha un effetto anche su di te. E in questo caso ciò che viene esposto più volte attraverso le lezioni è il materiale stesso della materia. Infatti familiarizzerai molto di più con i contenuti, questi saranno molto più facili da richiamare quando ne avrai bisogno, cioè durante lo studio individuale e poi anche durante l'esame. E questo è dettato principalmente dalla possibilità che con il minimo sforzo esclusivamente dell'ascolto, passivo potremmo dire, comincia già a strutturarsi una forma base, un minimo scheletro di apprendimento che poi potrai utilizzare durante lo studio individuale a casa e che comunque sarà facilitato dal fatto che quelle informazioni in un modo o in un altro, anche se in modo magari piuttosto sommario, comunque sono informazioni che almeno una volta hai sentito e che durante lo studio individuale porterai avanti e quindi rafforzerai, migliorerai fino a rendere in condizioni tali di completezza e di adeguatezza per poi portarli all'esame. Per essere ancora più chiari, infatti voglio dirti che il docente tendenzialmente è come se ti proponesse una domanda di preparazione in senso molto ampio, quindi il docente ha una certa quantità di aspettative di chi si presenta per svolgere l'esame. Quindi il tuo compito è riuscire a incontrare attraverso le tue risposte in generale, quindi in tutto l'esame, quindi un concetto ampio di risposte, proprio quello che il docente si aspetta. E per fare questo un modo per avvicinarti il più possibile è proprio conoscendo il docente, sapendo quali sono i temi che gli stanno più a cuore, su cosa si concentra l'esame in particolare e quindi questo avviene frequentando le lezioni. Per concludere voglio proporti l'altro effetto di cui ti parlavo all'inizio, cioè l'effetto coerenza e anche in questo caso ti farò un altro esempio, sempre nell'ambito del marketing e della pubblicità, che è uno dei luoghi che proliferano di tecniche psicologiche. E ti parlerò dell'effetto coerenza facendoti l'esempio dei call center. Ti sarà sicuramente capitato sentir porre agli operatori del call center delle domande molto ovvie, come ad esempio, lei usa il telefono? Ovviamente questa è una domanda ovvia, la corrisposta è altrettanto ovvia, e questo è il punto di forza della tecnica. Infatti cercando di indurti a rispondere di sì, questo comporterà la creazione di un effetto di coerenza, appunto quindi un senso di coerenza che vorrai portare avanti e quindi tendenzialmente potresti rispondere in modo affermativo anche alle altre domande che ti porrà l'operatore del call center. Quindi questo è un principio molto semplice e che voglio riapplicare per quanto riguarda l'aspetto del frequentare le lezioni, perché iniziare a frequentarle ti porterà comunque a una maggiore probabilità di continuare questo percorso e di portarlo avanti, magari scoprendo che è molto interessante il modo in cui il docente sta affrontando la materia. In ogni caso le probabilità saranno maggiori rispetto al caso in cui tu non dovessi proprio iniziare a frequentarle. In fin dei conti riuscire a frequentare le lezioni e poi dare l'esame non solo migliorerà la tua motivazione, la tua preparazione, ma farai in modo che il voto finale, che sarà tendenzialmente più alto, darà veramente un voto tuo. Quindi spero di averti aiutato a capire come funziona l'ambito delle lezioni, se è importante frequentarle. Abbiamo visto di sì, abbiamo visto soprattutto perché e quali sono alcuni dei meccanismi più importanti che stanno alla base. Quindi se ti è piaciuto il video e soprattutto se vuoi rimanere sempre aggiornato o aggiornato sui video che escono quotidianamente, ti invito ad iscriverti al canale, scrivi nella sezione dei commenti se hai qualche dubbio, qualche incertezza, ti risponderò sempre con moltissimo piacere. A questo punto ti ringrazio per l'attenzione che mi hai dedicato e ti aspetto nel prossimo video.